salve sono luca vengo dall'italia sono venuto alcuni mesi fa qui a tirana in albania da viaggiare sorridere per delle cure dentistiche avevo un problema di usura dei denti e quindi come potete vedere poi abbiamo fatto un lavoro molto buono lavoro diciamo che quindi professionale fatto da professionisti gente insomma anche molto cordiale e ovviamente professionale che tra l'altro mi è costato anche diciamo circa un quarto di quello che mi avevano chiesto in italia e comunque grazie anche a questo lavoro che ho fatto ho conosciuto un paese molto interessante sotto vari punti di vista tirana una città da conoscere e tutta l'albania paese molto interessante anche sicuro diciamo dal punto di vista insomma è molto vivibile dal momento in cui si arriva a tirana si è quindi c'è questa accoglienza da parte del personale e quindi dal momento della dell'arrivo sino poi alla partenza sia quindi ecco l'alloggio quindi eventuali anche uscite poi che ci saranno insomma nel fine settimana o comunque nei momenti di cui c'è la possibilità insomma di effettuare delle delle visite unire l'utile a dilettevole diciamo insomma e comunque diciamo che dicevo sempre facendo un lavoro quindi professionale e sparmiando anche molti molti denari